bella a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi andiamo a vedere questo gift card to friend ancora funzionante e semplicissimo da fare prima di iniziare come sempre vi chiedo di lasciare un bellissimo like e di iscrivervi al canale e seguite bene il video se vorrete riuscire a farlo prima cosa ragazzi se siano sono inviti e mira manuale obbligatoria per chi riceve le auto ragazzi centro operativo mobile all'interno del centro operativo mobile un'auto da sacrificare quindi olgrh8 auto dei civili chi invece passerà le auto ragazzi requisito base operativa con il messaggio sul cellulare di l'esser attivo un pratica il messaggio che vi dice di continuare o il colpo o la preparazione primo step ragazzi per partire con il glitch lo dovrà fare l'amico che ci passerà le auto quindi dovrà andare all'entrata del casino fare un partecipo a sessione con un amico in puntamento di mira diverso al nostro accettare il primo messaggio e come sempre rifiutare il secondo quindi ora una volta fatto questo passaggio il nostro amico dovrà spararci un colpo di pistola o di fucile in testa ora vi giro la telecamera così capite quello che dovrete fare il nostro amico prende un'arma non appena ci spara in testa ragazzi eccolo non appena ci spara ragazzi come dicevo su questa schermata doppio tasto ps nuovamente partecipa a sessione e andiamo a rifiutare il messaggio nero che ci esce non appena ci esce questo messaggio ragazzi su questa schermata in basso a destra vedrete la barra di rientro non appena è a poco più della metà andate sul pallino viola e cominciate a schiacciare tante volte x alla fine della schermata nera ragazzi il vostro personaggio di chi passerà le auto uscirà fuori dal casinò con la mappa buggata ora qui entra il messaggio di lester in gioco quindi apriamo il telefonino e facciamo partire il continua alla preparazione o al colpo di lester andremo a finire così noi che passeremo le auto sulle nuvole più o meno per due tre minuti il nostro amico come vedete dal secondo schermo invece nel frattempo dovrà richiedere il suo centro operativo mobile verificare che al suo interno ci sia l'auto che vorrà sacrificare se non ci dovesse essere come ho già detto ordina una lgr h8 o prende l'auto di un civile la mette dentro l'importante che c'è l'auto da sacrificare all'interno del com una volta che gli verrà spawnato il centro operativo mobile lo dovrà portare qui al parcheggio esterno del casino quindi ora il nostro amico come vedrete sta spostando il suo com e lo mette in maniera tale che il pallino blu sia sempre visibile una volta fatto questo dovrà aspettare solamente che noi che gli passeremo le auto spawneremo nuovamente o sul monte ciliad o alla base operativa comunque ora i passaggi di chi sta passando le auto ragazzi se spawnate sul monte ciliad o alla base operativa sono gli stessi quindi una volta rispawnati semplicemente tasto option andate sulla mappa andate a selezionare un'attività di quelle in blu vicino al casino fate quadrato la prima volta vi dirà che non è disponibile lo rifate anche una seconda volta questa volta non appena fate partire l'attività il gioco vi riporterà nuovamente sulle nuvole una volta che sarete sulle nuvole ragazzi voi che passate l'auto semplicemente non appena vi è possibile fate cerchio e esci dall'attività vi sarete così teletrasportati di fronte al casino e ora andate a prendere l'auto che vorrete passare al vostro amico e portatela il più vicino possibile al suo centro operativo mobile mantenendo sempre una certa distanza perché sennò gli sparisce il pallino blu quindi ora diciamo al nostro amico che riceve l'auto di entrare all'interno del suo centro operativo mobile una volta che è al suo interno dovrà salire sull'auto che vorrà perdere fare r2 e uscire fuori dal com una volta che sarà fuori ragazzi noi che passeremo le auto saliamo in macchina insieme a lui ora il nostro amico che invece che la riceve dovrà posizionarsi dietro il centro operativo mobile e fare freccia destra quindi il nostro amico si posiziona dietro il centro operativo mobile non appena preme freccia destra e ce lo dirà ragazzi dovremmo premere triangolo e far scendere il personaggio di chi passa l'auto quindi il nostro amico fa freccia destra noi che passiamo l'auto facciamo triangolo lo ripremiamo per risalire in auto e a questo punto diciamogli di fare retromarcia una volta che si sarà girato dovrà andare alla serranda del casino e qui non appena andrà sul pallino viola ragazzi gli uscirà la schermata dove gli scenderà la tendina di scegliere o il parcheggio del casino o il garage dell'attico di lusso dovrà scegliere il parcheggio quindi ci sarà la schermata come vedete del palazzo del casino quindi fategli fare una volta tasto ps per andare nella dashboard della play e poi tornare a gta comunque chi invece passa vedrà questa schermata quindi l'amico in macchina non c'è ora non appena rivede l'amico che tornerà disponibile in auto quindi visibile dovrà premere triangolo quindi il nostro amico torna noi che passiamo l'auto scendiamo dal veicolo e questa è la schermata di chi riceve quindi parte il video che sta entrando al parcheggio ora su questa schermata nera doppio tasto ps partecipa a sessione accettiamo il primo messaggio rifiutiamo il secondo subito dopo tasto option online e apriamo il criminal una volta aperto il criminal facciamo cerchio 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 chiudiamo tutto e premiamo triangolo il giocatore cadrà nel vuoto e rispaunerà all'esterno del casino quindi ora diciamo al nostro amico che ci sta passando l'auto ragazzi di avvicinare la macchina più vicino possibile al nostro centro operativo mobile magari non troppo vicino comunque ora diciamo al nostro amico che ci passerà l'auto di andarsi a posizionare dietro il com quindi guardate sempre il video una volta che si è posizionato lì noi che andiamo a ricevere l'auto andiamo sul pallino blu ragazzi ci uscirà la scritta di entrare da soli o con amici e compragni di crew qui facciamo entra da solo non appena facciamo x ragazzi dobbiamo fare subito un partecipa a sessione accetteremo nuovamente il primo messaggio rifiuteremo il secondo ci ritroveremo con questa schermata buggata quindi ora avviciniamoci vicino l'auto del nostro amico che ci verrà donata facciamo triangolo e il giocatore salirà in auto non appena metterà in moto la macchina la macchina entrerà direttamente all'interno del nostro centro operativo mobile quindi ora l'auto è salvata ragazzi per continuare con il glitch tirate fuori la macchina andatela a salvare magari al garage dell'attico di lusso o in qualsiasi altro garage e riordinate una lgr h8 da mettere all'interno del com e quindi da poter sacrificare ragazzi come avete visto è un glitch abbastanza semplice non c'è niente di complicato comunque se trovate difficoltà nel farlo lasciate un commento qui sotto o magari cosa più semplice ci iscrivete sui canali telegram li troverete tranquillamente supporto spero comunque il video vi sia piaciuto lasciate tanti like ed iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima bell'abituti